Sono 20 anni che cerco di capire Berlusconi. Non l'ho mai votato e non l'ho mai capito. È la dichiarazione che Lorenzo Cherubini, alias Giovanotti, ha rilasciato alla presentazione del suo disco, ora, al Pirellone di Milano. Ciò che serve ora all'Italia, secondo Giovanotti, è un progetto per il lavoro, la scuola, la sanità. Dichiara di aver sempre votato a sinistra, ma in questi ultimi tempi ritiene che la vera sinistra non ci sia più. Al suo posto progetti di bravi politici, Vendola, Veltroni, Granata, Fini. Secondo lui quello che manca al paese è un entusiasmo all'americana, come è avvenuto con Obama. Lo definisce un entusiasmo curativo, che permette di fare sacrifici, e anche pagare più tasse se il paese migliora.